Per quanto riguarda il mio settore, il mezzogiorno è particolarmente ricettivo, lo è stato e lo sarà di più in futuro, ad esempio sulle energie rinnovabili. Noi in Puglia e in Sicilia abbiamo sviluppato un sistema di energie rinnovabili che ha creato lavoro e ha creato posti occupazionali, ma non c'è solo quello. Penso ai parchi nazionali, penso alle osi marine, devono diventare queste motore di sviluppo e di attrazione di turismo. Nel sud ci sono maggiori potenzialità che nel nord dal punto di vista ambientale, ma ripeto per fare questo noi abbiamo bisogno di avere un paese meno burocratico, meno vincoli, più semplificazioni e tutto questo sarà possibile col processo riformatore che questo governo sta portando avanti.